Le belle femmine, le femmine dell'Ucraina e dicono alle siciliane di spogliarsi, vedete io sono qua cari amici, sono proprio qua vedete, si chiama Bar Marocco, io lo chiamo Caffè Marocco perché è più romantico Caffè Marocco, sono qua seduto e ripeto che fuori fuori c'è la porta aperta, io vedo la cattedrale normanna capito, la cattedrale normanna e un quotidiano dell'Italia milionare ha ospitato un articolo dove ci sono le belle femmine dell'Ucraina a petto nudo, a petto nudo, che dicono alle donne siciliane, spogliatevi pure voi, ma ciò che è singolare è che dicono queste belle femmine, che io me ne sposerei una di esse, me ne sposerei, dicono donne del sud, spogliatevi contro il patriarcado, quasi che queste belle femmine dell'Ucraina abbiano letto questa mia opera e può darsi perché è scritta in lingua inglese e quindi la possono comprare anche in Ucraina, io che prendo queste femmine qua che si spostano dappertutto a seno ludo, a seno ludo, anche quando fa freddo e c'era neve si spogliano a seno ludo, guardate il link che vi metto nel riassunto di questo video, me l'ha mandato un caro amico che mi ha mandato un link, ma io non mi ricordo più chi è stato il caro amico che mi ha mandato il link a questo servizio giornalistico dove belle femmine, belle femmine dicono alle donne siciliane spogliatevi, è contro il patriarcado, ecco cari amici, vedete? Sì sì sì, il patriarcado è sempre ambitico, è sempre ambitico il patriarcado, però alla fine il patriarcado ce la fa sempre, ce la fa sempre il patriarcado a recuperare la situazione, capito? Perché queste belle femmine prima o poi, prima o poi volenti o non volenti si sposeranno pure loro, magari con un uomo ricco, 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 ricco si sposeranno i bambini e una volta che hanno fatto i bambini la rivoluzione non la possono fare più, capito? Non la possono fare più perché il patriarcado è come un mostro che si mangia tutte le sue creature, capito? Se nasce una creatura ribelle il patriarcado se la mangia, capito? Va bene? Ah, guardate che io domani qua a Palermo c'ho la mia conferenza, capito? La mia conferenza è il comune di Palermo che mi ospita, capito? C'ho la mia conferenza proprio qui, passaggio dal patriarcado al patriarcado, va bene cari amici, vedete? È vero, è proprio vero, io so qua, vedete qua, so proprio qua, un posto meraviglioso. A tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.